Siamo con una cantante giapponese di nome Cheryl Nome, che viene dal manga Macross Frontier. Mentre la regia sta godendo dei colori e della bellezza del tuo cosplay, come mai questa scelta? Perché esteticamente mi piace molto e poi ovviamente ha una bella voce, mi rispecchia nel carattere, un po' cosciuta e testarda e poi adoro il rosa, il colore, quindi ho scelto questa cosa. Colore femminile per eccellenza credo. Il rosa, il biondo, il viola e il rosso. Quindi è un manga, ridiciamo bene... Anime. Un anime, scusa. Anime manga. Ridiciamo bene il nome di questa cantante così me la vado a vedere. Cheryl Nome si chiama. E tu da dove vieni? Qui siamo a Romics 2014 a Roma. A Subiaco, in provincia di Roma, a due ore da qua. Due ore da qua, sei nuova con la macchina. No, con i mezzi. Con i mezzi. Oggi giornata nuvolosa, però tu hai... Sì, però l'ombrello c'è, speriamo che non piove, insomma. Tu sai cantare anche? No, sono suonata come una campana, quindi no. Ma questo anime è quindi un fumetto, diciamo. Spiegami bene, c'è proprio il cartone animale dove canta? Sì, c'è proprio l'anime... In giapponese? Sì, esatto, in giapponese, di 25 episodi. Puoi cantarci qualcosa? No, no. Poi in giapponese... No, ma soppressionatissima, quindi no. Capito. Però immagino ci sono i sottotitoli, qualcosa, per cui capisci le canzioni. Beh, ovviamente. Sto scherzando per dire qualche altra cosa, per prolungare, anche per gli spettatori, perché stanno comunque vedendo il vestito regia. Io mi eglisso, ti lascio parlare al video. Ciao. 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 Grazie.